ehi vediamo come visto sulle prime pull ragazzi non so nemmeno come percepire se usciranno presto ecco eccomi sono io anto a me dispiace no ma che figurati ma anto mi dispiace io ho questo brutto vizio di comparire quando voi pullate mi dispiace ragazzi scusate siamo a 35 andiamo a 45 andiamo a 45 questa è la 36 ok ok idro chiama idro idro chiama idro dai è la legge 37 38 oi oi ma non demordiamo anto ce n'è un altro 1 2 3 4 5 6 no è questo era l'ultimo mi sa oh è nuova si andiamo questa è la multi ok e fin qui ci siamo ora vediamo dov'è a posto prima andiamo eccoci ok e dovrebbe essere più o meno a metà multi quale sarà la prossima è la 65 ok quindi la prossima è la 66 ok 67 68 la oma zongli zongli 70 oh oh aiuto come mai così emozionate stiamo andando a 76 la prossima è la 76 no proseguiamo sempre 12 anche io eh sì davide no ragazzi no 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 dovevo dovevo cioè è stata paga per promozione mi sono sfogato no 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 questo non centro ti va bene la volevi mi va bene no vabbè meglio di qualcun altro si è abbastanza ok c'è il lavoro per chi vende auto arancioni bene c'è il lavoro importante meno male almeno per loro per qualcuno almeno no 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 non sappiamo che ha sigurato non sappiamo aspettate quando la vediamo Eccolo E niente E niente Per forza Ok a posto Per forza Ok Quanto stiamo Martina? Siamo persi Questa è 64 Questa singola che hai tirato adesso Questa è 65 Ci sono 66 E che simulacra? No Ecco Te l'hanno Ora ce n'è un'altra Se te l'hanno chiamate due Io veramente mi sento Guarda Guarda Le lance Lasciamo Eccola Eccola Ti posso sentire Vediamo Un'altra o No eh No Sicuro Elt grazie per il follo Benvenuti là Basta Basta Porca miseria Tutte ste lance Almeno un Amos Vediamo Quanti ne hai Quanti porca miseria Ne hai di questi tempo Tipo 5 ne hai trovati Quanti hai trovati? 4 3 3 Mamma mia Secondo me Qui c'è il simulacra In questa multi Me lo sento Io me lo sento Me lo sento Forse non l'ho messo Come terza No Dai punto a zardare Oddio Pensavo Sto Sean Gyun È la Oma Questa è la seconda Oma Ecco Toma Oma Oh il simulacra davvero Ho ragione Ho ragione Triplo 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 Scusa hai ragione Oh 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 Ma che ti Non ho passato 75 Sto piangendo Vediamo Ora vediamo se si piangia Fra un po' si scopre Attenzione Sì Tempo Tempo Ho vinto No vabbè Ma che succede Sei vinto Vabbè ma c'è qua legato Dai che contro io Eccola Eccola che torna a casa Lasci uno C2 C2 C3 C4 Non c'è Non c'è Non c'è Era fake Fake out La prossima Oh mamma Oh mamma Mamma Paura questo Mi deve essere più di adesso Te lo ricordi Ragazzi Picchiate Oh 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 mio Dio 5-6 Oh mio Dio Oh ce n'è due Tempo Qui ce n'è due Eh per forza Inizio multi Tina del doppio 5 stelle Eccoci Ok 75 La prossima è la 76 Per chi gioca da poco tempo Questa è la singola Che ha il 20% in più di probabilità Che esca il 5 stelle Ma esce un rust Ma esce un rust 77 Sì Eccola L'abbiamo presa Sì 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 Ho preso anche l'arma giusta Dole 5 stelle Ma no Beidu Beidu Una dopo l'altra 76 Sì Sì Vinto anche questo Il mio piccolo Che da due anni Aspetta Aiuto Niente E' uscito il simulacro Mannaggia Mannaggia E' uscito il simulacro Che ansia Le mie pull Per la run Uguali E' questa Teoricamente Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Ce l'abbiamo fatta Dov'è? Dov'è? Dov'è sta infame? Dov'è? Oh Eccola E stiamo adesso Lì Lì E tiriamo La multi Allagato Ha fatto il carino Caricamento Ha fatto il caricamento Strano Vediamo Meno male Meno male Meno male Io almeno Non fallisco Ci mettiamo tempo Ma non falliamo Claudia Claudia Vai Eccola Oddio Grazie Ok Se questa è la 75 La prossima potrebbe essere molto Non ce l'avevo Non ce l'avevo Non ce l'aveva Non ce l'aveva Peggio per qualche giorno Durante appunto L'inizio Della seconda parte Di pace Quindi eccoci qua Claudia 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 Guardala quanto l'avevo Questa ragazza Claudia Dov'è? Dov'è Claudia? No che schifo Togli 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 Poi avanti Eccola Eccola Hai detto eh Oh Grazie signore Aiuto Aiuto Penso che tu Sei più in ansia tu che io Sì assolutamente Non puli da una vita Deve andare bene Abiti 102 La prossima E dai La prossima Eccola Sì Piccola Fimon Grazie per il follow Sì Claudia Vai screen Guardi Guardi là Che pisci Claudia Andiamo a 42 Guarda ci piglia anche per il culo Questo Guarda te La vendetta di ieri Sì Piano 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 Con calma Allora Questo era 33 34 35 Oh madonna Che paura Non è quello Ho perso il conto 39 E questa 38 38 Fatonna ragazzi Per favore Sì Vai Ho sbagliato Vabbè 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 L'importante è che ci siamo Vabbè Ero troppo gasata ragazzi Vabbè 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 Concentrati ora 73 74 75 86 77 Sì Vinto anche questo Vinto anche questo Vabbè Vabbè Let's go Ok Ok 75 76 77 78 79 80 80 E c'è l'81 Sì 81 Anzi Davide C'è l'81 81 Andiamo a 46 Sì 46 Dai Let's go Let's go Let's go Oh Oddio Oddio Aiuto Aiuto Allora ragazzi Siamo appesi 37 Con questa singola Ok Abbiamo il 50 E il 50 Ok 38 39 40 Oddio Che ansia 41 42 43 44 Oddio 45 Sì Abbiamo vinto Anche questo Sì Che bello ragazzi Tipiti 45 E Fabbiamo la 46 Sì 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 Grazie a tutti.